Il nostro obiettivo è questo, dare un senso all'incrocio, alla relazione commerciale, quindi dare un senso economico forte ai rapporti tra le imprese pugliesi che sono cresciute in altri luoghi, far loro conoscere l'eccellenza della Puglia, farle incontrare con il Made in Italy complessivamente e lavorare perché le relazioni commerciali in Puglia crescano. Questo richiede la sfida più importante, puntare sulla qualità, sull'alta qualità. Puntare sull'alta qualità significa anche dare soddisfazione economica agli operatori che innovando e crescendo qui in Puglia hanno la possibilità poi di incontrare i migliori operatori internazionali per stipulare con loro degli accordi commerciali. Il risultato primo, immediato, è stato questo. Da Chicago verranno otto grandi buyers statunitensi per lavorare sulla Puglia, per incontrare le imprese pugliesi. Questi buyers hanno come obiettivo la distribuzione di prodotti pugliesi. Ora saranno anche loro ad aiutare le nostre imprese a crescere, dicendo quali sono i loro obiettivi ed aiutandole a migliorare la qualità.